E parlo di Alex Fusaro, ciao Alex! Ciao Jimmy, innanzitutto grazie per l'invito, è veramente un piacere essere qui dalle frequenze di OK Musica con te e James e quindi, che dire, Vox Generation è una nuova realtà che nasce a Verona per dare voce alle nuove generazioni attraverso la musica e la passione per il canto. In particolare abbiamo voluto coinvolgere gli studenti delle scuole superiori e offrire loro un'opportunità di esibirsi in contesti di prestigio. Abbiamo debuttato a dicembre del 2022 all'auditorium della Gran Guardia ed è una community che sta crescendo di giorno in giorno. Quindi, ecco, sono davvero contento e pieno di energie per questo nuovo progetto. E da lì ti sei, ovviamente, hai dato possibilità di conoscere tantissimi ragazzi e il tuo pubblico, giusto Alex? Esatto, io proprio ho voluto creare delle opportunità per loro proprio anche dando così l'occasione di esibirsi su palchi che non sarebbe facile già da solcare all'età delle scuole superiori. Ecco, quindi abbiamo sempre realizzato eventi in cui ognuno potesse mettere in luce il proprio talento e soprattutto ci tengo a dire in un contesto non competitivo ma di pura espressione artistica musicale. E questo è straordinario. Perché non competitivo? Perché tante volte noi pensiamo a un contest. No, ma non è un contest questo. Questo è proprio un evento, giusto? Un evento e soprattutto ha anche proprio la funzione sociale di aggregare attraverso la musica ragazzi delle scuole superiori uniti dalla passione per la musica e dal condividere le proprie emozioni senza alcun tipo di spirito, di giudizio, di competizione ma proprio appunto per il piacere di stare insieme e continuare a crescere artisticamente. Sì, questo è veramente molto molto bello perché giustamente tu cerchi di valorizzare gli artisti e i studenti ma non è che sono tuoi studenti, c'è qualcuno sicuramente che è tuo studente ma non è che è giusto? Esatto, pensa Jimmy che finora abbiamo coinvolto studenti provenienti da oltre 15 scuole superiori di Verona e provincia quindi licei, istituti tecnici, istituti professionali, ogni ragazzo ha rappresentato la propria scuola con la sua voce e questo è proprio anche un concetto forte che ho voluto portare con Vox Generation nel momento in cui la musica scompare dopo le scuole medie Vox Generation vuole essere proprio una risposta a questa passione dei ragazzi che continuano a coltivare durante le scuole superiori non avendo un'opportunità di essere anche seguiti e affiancati da docenti o professionisti di diverso settore che hanno a cuore le nuove generazioni della musica.